A Genova mi chiamavo Diana, avevo scelto questo nome perché avevo letto un libro che il personaggio mi piaceva e quindi mi piaceva questo nome. A Genova ero Diana, mentre invece a Padova, quando poi sono andata a Padova, ero diventata Esther. A Padova ci sono arrivata dopo che hanno arrestato mia sorella, verso la metà di dicembre del 1944 hanno arrestato mia sorella con questa ragazza che appunto ti dicevo che lei ha voluto andare in casa e le hanno prese tutte e due. Sono state tutte e due in carcere 15 giorni, poi non hanno trovato niente. Mio marito di notte, mio marito allora non era mio marito, non era niente per me ancora, aveva fatto tutta la strada lungo il fiume a mezzanotte e è arrivato da mia madre. Mi ha detto che avevano arrestato mia sorella e mia madre allora è andata a cercare, c'erano manifestini, c'era la macchina da scrivere, c'erano, insomma lei è andata a sotterare la macchina da scrivere nell'orto, è andata, ha bruciato tutto quello che poteva bruciare, tutto quello che ha trovato ha bruciato. Insomma alle quattro sono arrivate le brigate nere in casa. Quattro di notte? C'era, quattro di notte sì. Mio marito era venuto a mezzanotte, mia madre in quel lasso di tempo ha fatto tutto. Avevo una madre che era meravigliosa, devo dire, aveva una forza d'animo. Ora dico, avessi avuto dei maschi, ma avere quattro femmine così, così assatamate, non so. C'è rimasta in casa, c'è rimasta mia sorella, la più piccola, che aveva 16 anni, e mia madre. mia madre, lei, appunto, era una donna che sapeva cavarsela in tutte le situazioni. mia sorella Giustina intratteneva, era a letto, intratteneva sti ragazzotti, che le brigate nere erano dei ragazzotti, ma avevano 15-16 anni, no? Lei li intratteneva, seduta sul letto scherzava con loro. E insomma che hanno guardato tutto, non ho trovato niente, insomma se ne sono andati. Basta, ho visto che c'era niente. Quindi io non sono più tornata a casa, mia sorella maggiore, lei faceva la staffetta da Genova a Milano, lei è rimasta a Milano, e io da Genova, no, innanzitutto mi sono fatta tingere i capelli, da bionda sono diventata nera. Poi vi faccio vedere le fotografie, di come ero da bionda e di come sono diventata da nera. Non mi riconosceva più nessuno, eh. Mi ricordo che ero alla fermata del tram a San Pier d'Arena, c'era sulla banchina, mentre aspettavamo il tram, c'era una mia collega d'ufficio. Io le sono passata vicino, lei non mi ha riconosciuto. Mi sono, ho cambiato pettinatura, mi sono tinta i capelli di nero, mi sono messa ben bene di rossetto, pitturata bene, no, mi riconosceva nessuno. Sono stata 15 giorni a Milano, dove c'era già mia sorella. Di fatti avevo, avevo, avevo la carta d'identità a Milano, quella, quella falsa. Poi mi hanno mandato a Padova. Ah, hai cambiato identità? Sì, sì. Ti ricordi come ti chiamavi? Sì, ho la carta d'identità, ce l'ho ancora. E poi a Padova avevo un'altra carta d'identità ancora, dove sono stata fino alla fine della guerra. E avevi dei compiti particolari o le caricature? Facevo la stafetta io. Ah, io ho girato tutto il Veneto. In bicicletta portavo, perché? Perché a Padova c'era il triunvirato insurrezionale, così si chiamava, triunvirato insurrezionale del Veneto, che era quello che comandava, diciamo, aveva sotto di sé il CLN, i comunisti, insomma, aveva i contatti con tutti, con i democristiani, con i socialisti, con i partigiani, con... insomma, era quello che aveva in mano tutto il... diciamo... tutto il... tutto il movimento, tutto il movimento, ecco. si chiamava il triunvirato insurrezionale del Veneto. Quindi tu, senza conoscere la regione, i posti, andavi in giro in bicicletta. Ti sarei persa qualche cosa. No, perché? No, perché senza conoscere niente, da sola andavi in giro. Eh certo, eh... Perché dovevo perdere? Eh non so, perché se non conosce niente... Eh no, eh loro... Io andavo, andavo a portare qualche cosa che io non guardavo mai, perché a me... mi hanno detto, non devi mai... per la tua sicurezza, non devi mai sapere quello che c'è. e quindi io non ho mai... curiosa, non lo sono mai stata, e quindi... e poi ero lì già alle... alle cose, insomma, mi dicevano... quello che mi dicevano io facevo. e io andavo da Padova, andavo a Monselice, a Este, andavo a Venezia, andavo a Treviso, sono andata a... 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 come diavolo si chiama? Quello verso Ferrara, come si chiama? Quella... Rovigo. A Rovigo, ad Adria. E tu andavi direttamente nei distaccamenti o avevi dei referenti? No, 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 niente di distaccamenti, io non andavo dai partigiani, io andavo dai politici, andavo da quelli del Partito Comunista, perché io lavoravo per il Partito Comunista, per la direzione. Io... il triunvirato insurrezionale era... il presidente era un compagno della direzione del Partito Comunista. E c'era... in questo comitato c'era uno che si chiamava Santus, che era di... non so se era di Novara o di Vercelli. Poi c'era Schiaparelli, che era di Biella. Poi che c'era? C'era sto... Prato Longo, che era di Trieste, era il presidente. Poi... pareva ci fosse un altro. Quello... quello di Venezia, come si chiamava più... ma... mi ricordo più. Senti, ma quindi tu eri a Padova quando arriva il 25 aprile la liberazione? Il 28 di aprile c'è stata l'insurrezione a Padova. Il 28 di aprile. Ci vuoi raccontare qualcosa in ricordo personale? Ma... io non... io so che il giorno prima sono andata in bicicletta ad Adria. O due giorni prima. Non so se è un giorno. due giorni prima. So che ho dormito ad Adria in una casa, in un batterasso per terra. Si sentivano le cannonate degli americani. So che io dormivo e c'era un compagno che non riusciva a dormire. Sento che dice ci sono le cannonate e questa dorme. Ci sono le cannonate e questa dorme. Perché lui non riusciva a dormire. Io dormivo lo stesso. Ma io ero abituato in quel casello dove passava il treno che trammava tutta la casa. Era abituato ai rumori. E poi... so che sono arrivata ad Adria e ad Adria dovevo attraversare l'Adige. Come faccio a attraversare l'Adige? Per attraversare l'Adige c'era solo la barca con un tedesco sopra che ti portava dall'altra parte. però la bicicletta non si poteva. Allora ho lasciato la bicicletta in casa dei contadini che erano lì. C'era una casa dei contadini. Io ho detto tenete un po' la bicicletta che è... Sì, sì. Portano di là piangeva c'ho la mamma di là c'ho la mamma ecco e quelle mi portano di là. Eh porto sta roba dormo lì poi torno indietro la mattina dopo lì di nuovo c'ho la mamma di là c'ho la mamma mi portano di là vado per prendere la bicicletta con gli stronzi se la son tenuta eh sono venuti i tedeschi ce l'han portata via si son tenuti la mia bicicletta io avevo 60 km da fare eh mica mica due cosa faccio? e beh tanto cominciò ad andare poi sui cari dei tedeschi perché c'erano questi tedeschi che erano che erano in fuga tra l'altro né tra l'altro non avevano più il carburante c'era un camion che andava e due dietro attaccati che li tiravano e lo ti va bene e un po' con i tedeschi sul carro poi quando arrivavano lì di nuovo a piedi che faccio? ho visto c'era una trattoria un'osteria non so c'erano delle biciclette lì fuori che erano dei tedeschi me ne son presa una e me la son filata per un po' sono andata però poi oh mi hanno preso pure quella i tedeschi mi hanno preso anche quella bicicletta tanto che poi dalla mattina che sono partita sono arrivata alla sera a Padova un po' a piedi un po' su qualche carro così sono arrivata alla sera sono arrivata a Padova il giorno dopo c'è stata la liberazione il giorno dopo e come c'è la festa le strutture e beh sparatori eccetera eccetera e poi e poi la festa naturalmente